Ben trovati al consueto appuntamento con informazioni di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. Uno dei due candidati del centrodestra, la presidenza della regione Puglia, l'esponente di Fratelli d'Italia, Adriana Polibortone, sostenuta da Forza Italia e Lega, non parteciperà al confronto in programma oggi a Bari tra tutti i candidati governatori. Il suo unico competitor, fa sapere il suo staff, è Michele Emiliano, il candidato del centrosinistra che la Polibortone ha invitato via Twitter ad un confronto pubblico che si terrà sabato mattina 25 aprile a Turi. Alla sfida, che Emiliano ha subito accettato, la Polibortone invita tutti ad assistere. Su Twitter e Facebook lancia l'hashtag duello Poli Emiliano. Torniamo a parlare della multiservizi. Il Comune chiede all'azienda di razionalizzare le risorse per essere più competitiva e a giorni il presidente dell'ex municipalizzata sarà convocato in commissione. Bilancio, vediamo perché. I custodi della multiservizi costano troppo, sono fuori mercato, almeno il 10% in più rispetto al tariffario medio della sorveglianza privata non armata. A dirlo è la due diligence voluta dal Comune per passare a setaccio bilanci, conti e spese della più piccola delle aziende partecipate baresi. Uno studio affidato a tecnici e consulenti per capire lo stato di salute della multiservizi e quindi cosa conviene e cosa no alle casse comunali. I risultati parlano chiaro e dettano la linea Palazzo di Città. Così come l'organizzazione dell'azienda non va bene, le risorse vanno razionalizzate, altrimenti tutti a casa e i servizi vengono appaltati direttamente ai privati. Nel pomeriggio un nuovo incontro tra sindacati e Comune. I punti critici sono essenzialmente tre. Il primo macroscopico. A organizzare il lavoro di 146 dipendenti ci sono 23 amministrativi, 23 persone in ufficio, 120 per strada e in un rapporto di 1 a 5. Troppe per il Comune. Di questi sei sono dirigenti, un presidente, tre membri del CDA, un direttore generale, un collegio dei revisori dei conti, sei quadri, un apparato di nominati per gestire un centinaio di operai, quando basterebbe un solo amministratore unico e su questo punto sono d'accordo anche i sindacati. Infine il ruolo dei custodi di immobili pubblici, 46, troppo cari e inutili per Palazzo di Città, che invece vorrebbe impegnarli per servizi più operativi come la manutenzione delle strade. Un'idea che però non convince lavoratori e sindacati che torneranno a riunirsi il prossimo 4 maggio in un tavolo tecnico con gli specialisti della due diligence. Abbiamo posto l'accento su alcuni bandi e alcune azioni che hanno posto in essere sia il Presidente che il Consiglio di Amministrazione della Multiservizi, in particolare circa il bando per il reperimento di figure professionali per consulenze fiscali e quelle per il reperimento di consulenti per la predisposizione di buste paga, che costerebbero alla comunità circa 40 mila euro l'anno per tre anni e ci siamo domandati se all'interno dell'azienda non vi fossero figure capaci di assolvere queste tipologie di mansioni. Inoltre abbiamo anche evidenziato la questione del bando affidato ad un'agenzia interinale che prevede l'assunzione fino a far parte del 31-12-2016 di circa 16 giardinieri quando insistono all'interno della Multiservizi già delle graduatorie. E' rinchiuso nel carcere di Bari l'ex sacerdote arrestato dalla polizia postale perché accusato di abusi su un ragazzino di 11 anni. L'ordinanza è stata emessa dalla magistratura barese. L'uomo è accusato di violenza sessuale e diffusione di materiale pedopornografico. Gli investigatori subito dopo l'arresto dell'ex religioso ha compiuto una perquisizione a Rieti presso una persona alla quale l'uomo aveva inviato tramite whatsapp materiale pedopornografico ai danni della piccola vittima. Parliamo di scuole. Oscilla tra il 15 e il 25% la percentuale di potenziali evasori fiscali tra coloro che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico, mensa e accessi agli asili nido. A breve i genitori attenzionati riceveranno un avviso di accertamento dal comune il servizio. Evasione fiscale è presente anche nel mondo della scuola? Sì, dall'inizio del mandato ci siamo dati come obiettivo quello di rendere più efficienti i servizi, ma per rendere più efficienti i servizi non possiamo non controllare che chi accede agli sconti, alle gratuità per servizi quali trasporto scolastico, mensa o accesso agli asili nido dichiari il vero o meno. Abbiamo fatto un controllo a tappeto su tutte le domande per l'anno scolastico 2014-2015 per asili, trasporto e mensa e ci siamo resi conto che c'è in tutti i servizi una percentuale di evasione. Quindi parliamo di potenziale evasione, ma di che percentuale? Ad esempio per gli asili nido la potenziale evasione è del 15%, per quanto riguarda invece la mensa scolastica su 7000 domande parliamo di 2700 domande potenziali, sia ben chiaro, non vogliamo dare del reo a qualcuno. Per quanto riguarda il trasporto siamo in una fase di elaborazione. Appuntamento alle 15.30 in aula Dalfino per una nuova seduta di consiglio comunale. All'ordine del giorno il question time, il botta e risposta tra consiglieri e assessori comunali ad essere discusse le istanze dei cittadini di cui gli eletti in consiglio si fanno portavoce. Via al primo step di lavori per il grande parco urbano di Loseto. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici del comune di Bari e il presidente del quarto municipio hanno incontrato i residenti. Vediamo. Circondati dai residenti e dai piccoli alunni della scuola primaria Ciniglio, l'assessore ai lavori pubblici Pino Galasso e il presidente del quarto municipio Nicola Acquaviva hanno questa mattina dato il via ai lavori sui primi 6.000 metri quadri di quello che sarà il grande parco urbano di Loseto. Cartina alla mano hanno mostrato il lieto finale di un progetto fortemente voluto anche dall'amministrazione precedente. Gli interventi previsti nel primo step per un importo di 500.000 euro termineranno nei primi mesi del 2016. Sono previsti diverse attività, intanto uno spazio per orto sociale, uno spazio ludico per attività sportive, precisamente un campo da basket e un campo di pallavolo e uno spazio centrale, una sorta di agora, una piazza che può essere utilizzata anche per la gestione di eventi. Completano poi la presenza del parco una serie di superfici a verde con un prato particolarmente resistente, con essenze particolarmente resistenti alle nostre temperature e un'area giochi per bambini con una pavimentazione antitrauma. Adiacente alla parrocchia del Salvatore il giardino diventerà un grande polmone verde e il principale luogo di aggregazione di svago in un territorio storicamente privo di spazi. Questa mattina i residenti hanno approfittato per presentare ai due rappresentanti delle istituzioni tutte le istanze del territorio, lamentando tra l'altro un trattamento negli anni da cittadini di Serie B. Credo che non sia proprio vero questo atteggiamento da parte dell'amministrazione perché come dicevo oggi proprio sono veramente contento e felice per aver dato inizio a questi lavori a meno di un anno dall'iniziativa intrapresa per questa opera. Vandali nuovamente in azione nel parco Don Tonino Bello nel quartiere Poggio Franco durante la scorsa notte infatti i gnoti hanno letteralmente sradicato alcune palme presenti lasciando le reverse sul pavimento. Buon compleanno a Quedotto Pugliese, cento anni di storia documentati con una mostra fotografica inaugurata oggi nella sede di Banca Apuglia a Bari. C'era per noi Cristina Ferrigni. E' il 24 aprile 1915, uno zampillo d'acqua prima incerto poi scrosciante e sgorga dalla fontana scavata nella piazza antistante l'edificio che diventerà l'Ateneo di Bari, la prima pagina di uno dei capitoli più importanti della storia della Puglia, l'arrivo dell'acqua. L'inizio di una nuova era di progresso, iniziata cento anni fa e documentata con una mostra fotografica allestita nella sede di Banca Apuglia in corso Vittorio Emanuele. Se noi pensiamo a cento anni di storia veramente c'è da rabbrividire, da quando l'allora governo Crispi spese e quindi stanziò i primi 120.000 lire, credo che se ne sia passato di tempo, se fosse qui Crispi probabilmente sarebbe il primo a gioire di questa manifestazione. Le iniziative per il centenario dell'Acquedotto Pugliese entrano nel vivo domani mattina proprio a Piazza Umberto che si animerà di eventi culturali e spettacoli iniziando dalla rievocazione storica del primo zampillo della Fontana. Ci sarà anche la fanfara della terza regione aerea che suonerà per il centenario dell'Acquedotto più grande d'Europa. Io ritengo che queste giornate siano un'occasione preziosa per ricordarci di non dare per scontato quello che succede quando apriamo un rubinetto. Cento anni fa, quindi tre generazioni fa, l'acqua era un bene raro, prezioso e di qualità pessima. La Puglia soffriva di colera, malarie e altre malattie. Oggi non è più così da tempo, da sempre e l'acqua è finalmente diventata un bene comune a disposizione di tutti. Hashtag io leggo perché l'Associazione Italiana Editori ha lanciato oggi l'hashtag come forte invito in favore della lettura per la giornata mondiale del libro. Trante le iniziative previste per l'occasione anche a Bari. Questa mattina Paolo Comentale presso la libreria La Terza ha presentato il suo nuovo libro Otello Canne d'Aprile in collaborazione con l'associazione Donne in Corriera. Nel pomeriggio invece Massimo Carlotto proporrà al pubblico la sua nuova opera presso la libreria Feltrinelli che rimarrà aperta fino a mezzanotte. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 11 e 23 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e infochioccio nel segno di zorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito più tardi con informazione di Telebari.